Sandro Campagna, era importante partire col piede giusto, avevi detto prima del torneo olimpico dovremmo salire di livello in questa preparazione per essere chirurgici. Oggi c'è stata una grandissima difesa e poi in attacco chirurgici. Sì, abbiamo preparato bene la partita e i giocatori sono stati straordinari perché hanno disinnescato le loro potenzialità forti, difensive, che sono questa zona molto stretta, altrimenti si trasformava in zona M pronti a partire in contropiede. E' un uomo in meno molto chiuso, serrato, che infatti si sono saltati al secondo tempo quando ci hanno bloccato tre o quattro volte di seguito, avete visto come gridavano. E allora lì gli ho detto alcune cose per disinnescare questa loro fiducia e gli ho detto se li becchiamo a inizio terzo tempo vedrete che crollano e così è stato perché ha segnato subito gli occhi. Poi Nicolas è sull'uomo in più di Fulvio e lì non avevamo più cosa aggrapparsi, si sono aggrappati al pressing finale, però la partita ormai era andata. Settebello che ha evitato così anche la ripetizione della battaglia che c'è stata a Doha negli ottavi di finale del Mondiale. Ma là avevamo tutta la pressione addosso perché dovevamo qualificarci per le Olimpiadi, mentre gli Stati Uniti giocavano senza nulla da perdere, tra l'altro senza Allocco, per cui se perdevano era nell'ordine delle cose. È stata una partita dispendiosa fisicamente, adesso dobbiamo recuperare anche perché tra meno di 48 ore giocheremo contro i Croati. Questo è un torneo durissimo perché non c'è nessun torneo al mondo che è più duro di questa Olimpiade perché quattro partite a settimana i giocatori non li giocano mai, in nessuna competizione e si fanno quattro partite tutte come possibili semifinali o finali da un punto di vista della forza e dell'avversario. Per cui cresceremo sotto questo punto di vista. Adesso dobbiamo pensare alla corazza perché se pensiamo che questa partita ci abbia già dato la qualificazione ci sbagliamo di grosso. Grazie.